L'esordio vincente in campionato ha scacciato le preoccupazioni degli ultimi giorni, ma il lavoro da fare negli ambienti societari è ancora tantissimo. Il Foggia risponde sul campo con il 2 a 0 al Potenza e con le dichiarazioni dell'amministratore delegato Davide Pelusi. Il dirigente rosso-nero, intervenuto lunedì sera a Monday Night, ha confermato le intenzioni della società sul futuro. Molto probabilmente io stimo che andremo avanti la stessa compagine sociale ancora per un anno, ma questo non vuol dire che non incontreremo e non parleremo eventuali imprenditori o anche cordate che dovessero dimostrarsi interessate. I rapporti con il sindaco si sono molto rasserenati, ma già dal ritiro, quando il sindaco ci ha onorato anche della sua visita in ritiro, purtroppo non eravamo presenti, né io né il presidente, però si è lungo trattenuto con la squadra e con il direttore Nini Corda. Lunedì mattina è andato in scena anche l'incontro con il sindaco Franco Landella, con il quale si erano inaspriti i tuoni durante l'estate. Il confronto con l'amministrazione comunale è andato a buon fine, confermato anche dal primo cittadino con un post su Facebook. Risolta momentaneamente la questione dirigenziale, è il momento di riorganizzarsi dopo i tumulti sulla panchina dello Zaccheria, da Capuano a Marchionni, passando per Maiuri. In un primo momento la scelta era ricaduta su Capuano, proprio per la sua maggiore esperienza, ha fatto diversi campionati, alla luce dei nostri programmi che erano programmi comunque di salvezza, questo l'abbiamo detto fin dal primo minuto e chiaramente, pur non avendo ancora la categoria, la scelta era ricaduta su di lui. Ad un certo punto Maiuri ci ha detto chiaramente che lui aveva da una parte il cuore che dibatteva per questo progetto, per il Forza, per una piazza come Forza, però dall'altra parte, da un punto di vista mentale, non si sentiva di proseguire il progetto. Come l'anno scorso, le difficoltà non sono mancate e non mancheranno, ma il primo segnale che arriva dal campo permette all'ambiente di guardare con ottimismo la stagione appena cominciata. Pelusi è soddisfatto dell'inizio, anche e soprattutto dei progressi sul piano del gioco, rispetto alla scorsa annata in Serie D. Quindi partire in questo modo è andato oltre le nostre aspettative e ci ha riempito di soddisfazione non solo per i tre punti, ma anche per come è maturata la vittoria. Con un gioco aggressivo che per chi ha seguito il Foggia l'anno scorso ricorda per tanti versi le prestazioni fatte l'anno scorso, ma con qualità in più rispetto al campionato di Serie D. Grazie.